L'ultima storia a cui sto lavorando è un tex di Manfredi per la serie regolare, un lavoro molto impegnativo che viene dopo il texone di Pasquale Ruiu. L'ambientazione è molto difficile e anche la dinamica delle vicende, però come al solito mi intriga perché è una sfida a cui voglio partecipare e vedere come finisce. Trovare degli stimoli e non cristallizzarsi in questo mestiere è indispensabile. I personaggi che mi intrigano sono specialmente quelli americani, prima di tutto Batman, per varie vicissitudini anche se ho lavorato per gli Stati Uniti non ho mai disegnato, questo non è detto, magari in futuro potrò fare qualche cosa per la Marvel o per qualche altra casa editrice americana. I supereroi, questo è forse l'unico tassello che mi manca nella mia lunga carriera di disegnatore stagionato.